buongiorno come state dalla mia faccia devastata tanto tra poco andrò a truccarmi e aggiornamento brutcoletti siamo ancora qua peggio ma sto rimettendo il gentle in beta stanotte ho dormito con le trecce ho dei prodottini nuovi per gli occhi tra l'altro uno regalo anche di natale e niente ho preso delle palettine nuove perché mi incuriosivano anche se mi stanno incuriosiando molto altre palettine che mi sa che poi tornerò anche a prendere comunque vi faccio l'aggiornamento di quelle che ho un video super breve un paio di minuti e intanto il regalo di natale è questo ombrettino soft touch di essence nella colorazione cookie jar da rotto che mi hanno regalato e sicuramente poi lo proverò poi io mi sono presa questa palettina di marrone di elf tra l'altro ci ho fatto il trucco per l'ultimo dell'anno ed è venuto bellissimo ed ha retto veramente tanto infatti tornerò da douglas per prendere le altre palettine costano all'incirca 5 euro e qualcosa quindi sono anche molto economiche molto piccole da viaggio sembrano quelle di natasha di nonna secondo me sono molto dupe e questa è nella colorazione con i marroncini insomma e vorrei tornare a prendere le altre soltanto che c'era la una con i verdi ma non mi ho preso la parco nudo c'è anche lo specchietto e da questi a questi colori sul lilla così c'è anche lo specchietto e poi l'altra paletta che ho preso sempre di douglas per lo smokey anche questo c'è lo specchio e ci aveva anche il suo pennellino che ho tolto e gli altri colori sono questi si sono questi sono questi tra l'altro mi ispirava un botto questo blu glitterato così da colori molto simili a quella di urban decay adesso poi dopo la proverò magari faremo un video insieme dove andremo a provare queste nuove palettine viste per visto perché sennò ho sempre le solite cose insomma ho detto così almeno le faccio vedere qualcosa di nuovo non costano neanche tanto quindi questi sono i nuovi prodotti mi makeup spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo